Continua il nostro viaggio qua tra gli stand di Transpotec, siamo nello stand Webfleet, siamo con Marco Federsoni, direttore vendite. Un'edizione importante questa del 2024 del Transpotec? Assolutamente sì, devo dirti la verità, ci aspettavamo ancora più gente, ce n'è, ma diciamo che la mia percezione è un po' meno quantità ma tanta qualità, quindi siamo molto contenti di questa edizione. E siete contenti anche di quello che è stato il vostro stand, ci vuoi raccontare cosa avete presentato, chi avete incontrato in questi quattro giorni? Assolutamente sì, abbiamo fatto un'edizione un po' particolare, non solo prodotto, visto che ormai siamo dedicati al servizio, abbiamo naturalmente presentato il nostro servizio di punta che è la Dashcam, la Cam50, dove introduciamo anche l'intelligenza artificiale, una cosa di cui non potevamo non parlare in questa edizione. Abbiamo visto molti clienti, già clienti, molti prospect e abbiamo visto l'interesse per l'intelligenza artificiale applicata al mondo della mobilità, quindi un buon feedback e speriamo di portarci a casa molto di quello che abbiamo visto qua. Abbiamo visto anche la nuova divisione Fleet Care, cos'è in poche parole? In pochissime parole possiamo dire che finalmente l'acquisizione di Bridgestone, da parte Bridgestone di Webfleet ha preso forma e Fleet Care nel vero senso della parola ci prendiamo cura della flotta dall'inizio alla fine, a partire dal pneumatico fino alla mobilità integrata. Per saperne di più, venite a trovarci! Ciao! Ciao!